Domani sera con il grande concerto di Max Richter al Teatro di Rinnovati inizia una straordinaria stagione, il Chigiana International Festival and Summer Academy, un festival che guarda alle stelle di tutto il mondo che saranno a Siena insieme ai giovani protagonisti dell'Accademia, quindi giovani e stars insieme per un festival di importanza mondiale. Ecco, qualche nome lo vogliamo ricordare delle stelle della musica internazionale che saranno a Siena? Certamente, oltre a Max Richter che ormai è un fenomeno planetario, ci saranno David Krakauer, grandissimo carinetista Kledzmer, Lilia Zilberstein, Geringas, Barschmet, Belkin, Meneses, questo per dire solo alcuni dei nomi, Roberto Fabriciani, uno dei più grandi intepeti del flauto contemporaneo, e poi ancora Mattias Görne, il più grande baritono di tutti i tempi, Marcus Interheuser al pianoforte, interpreta con Mattias Görne del Winterreise di Schubert con la regia di William Kentridge, la più grande star, Marcus Interheuser che oggi è il nuovo sovrintendente del festival di Salisburgo, quindi i grandi, non solo protagonisti della musica, ma anche i grandi protagonisti dei festival mondiali, Ex-en-Provence, Salisburgo, Lucerna, Lausanne, eccetera, protagonisti a Siena di una straordinaria stagione musicale. Quello di domani sera sarà una prima italiana di uno spettacolo che ha già girato per il mondo, ma poi ci saranno delle prime importanti. Ci sarà la prima mondiale del carnaval di Salvatore Sciarrino, interpretato dai Clank Forum di Vienna e dai Noevo Casolisten di Stoccarda, con un pianista di eccezione, Daniele Pollini, figlio del grandissimo Maurizio Pollini, quindi la nuova generazione anche dei grandi intepeti italiani, una prima mondiale che farà parlare di sé ovunque. E state lavorando anche a rimettere insieme i grandi maestri chigiani per fare dei grandi eventi musicali? Certamente, maestri chigiani e giovani studenti, giovani protagonisti del concertismo del futuro, vogliamo metterli assieme in quello che sarà un ensemble dell'Accademia Chigiana. Chigiana Ansemble è un nome che farà girare la Chigiana e Siena nel mondo.